E' stato rimosso il presidio pacifico che era stato istituito presso il distretto sanitario di Sapri per il mantenimento del centro riabilitativo Juventus di Vibonati. Durante l'occupazione il direttore del distretto Adamo Maiese e il manager dell'Asla Antonio Squillante hanno assicurato alle famiglie che il territorio non sarà privato dell'importante servizio riabilitativo convenzionato. Se la società che attualmente gestisce il centro confermerà la chiusura dal 30 gennaio, ha detto Squillante durante la conversazione telefonica con Maiese, l'Asla affiderà il servizio ad un'altra struttura in grado di proseguire la stessa assistenza. Non consentiremo, aggiunge Maiese, che le famiglie vadano in giro per il territorio salernitano con le loro sofferenze. Intanto una struttura sanitaria di Vibonati, Villa Verde, si è già dichiarata disponibile a mettere a disposizione i propri locali. Chiaramente, aggiunge, bisogna prima verificare se sarebbero eventualmente sufficienti per poter svolgere tutte le attività necessarie per la riabilitazione ad anziani e disabili. Si è raggiunto un piccolo risultato, ha dichiarato il sindaco di Vibonati Massimo Marcheggiani, restiamo comunque vigili affinché la vicenda abbia il lieto fine da noi auspicato. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. È un ennesimo colpo inflitto al sistema sanitario regionale, è giunta l'ora, scritto di voltare pagina, investire nella sanità e garantire un'assistenza di qualità. Per il momento le famiglie hanno sospeso l'occupazione, sperando che l'Asla mantenga gli impegni assunti. Quello che chiedono è che i loro familiari dal 1 febbraio sappiano esattamente dove dovranno recarsi per le terapie e che il loro dramma non diventi oggetto da commercializzare per l'imminente campagna elettorale.